Il regalo di compleanno Perfetto, se lo fa da solo Kvisa, Kvara Scheglia La sblocca lui al ventiduesimo 1-0 Napoli, colpisce il Georgiano Nel suo giorno, nella sua serata Il 77 decide di sbloccare la sfida E di mandare invisibilio al Maradona Nono gol in campionato per Kvara Era una partita difficile da sbloccare Ci ha pensato il 77 Raccogliendo un cross di Lozano Qui il mezzo errore di Sernicola Che non riesce a indirizzare Verso il calcio d'angolo E poi Kvara Scheglia Riesce a bucare con il colpo da biliardo Sul palo lontano Carnesecchi non ci arriva E Napoli che passa Fanno 11 in stagione Contando anche i due gol in Champions Per l'esterno del Napoli Che anche stasera riesce a lasciare il segno Dopo la rete segnata contro lo Spezia Su rigore Stasera è lui Ad aprire le marcature Avanti il Napoli Con Kvicia Varaschelia Si fa sentire adesso lo stadio Il Maradona Che esulta Che esulta